Sì, sono contento, sono contento che altro perché abbiamo vinto e andiamo avanti. Poi se arrivano sul personale, se riesco a fare queste partite per la mia squadra, sono ancora più contento sicuramente. Una vittoria che vale molto di più perché se l'altro 3-0 era stato facile, questa volta avete dovuto lottare per tutti i tre set che avete portato a casa. Ogni partita è sempre più bella, più tirata e oggi poteva finire anche questa 3-0. Sono stati bravi alla fine del terzo set ma noi siamo rimasti lì con la testa e ci abbiamo portato la partita a casa. Questo è quello che conta. Adesso ci prepariamo per domenica che sicuramente sarà un'altra guerra. Che partita sarà? Che partita ti immagini? A sangue, sicuramente sarà una partita che bisognerà stare con muscoli caldi e con la mente fredda. Chi sbaglierà di meno, chi ci crederà di più, si porta la partita a casa sicuramente.